Lì, guarda la città, si pulivano una volta, certo che nasce insieme, noi non abbiamo gli ascensori così. Io non l'ho visto da nessuna parte, qua non si vede mai, né in giro, né da nessuna parte un pezzo di carta da terra, anche l'accento di grattacieli, che c'è un gran casino di gente, non vedi niente per te. Comunque le multe sono salate, si parla di 400 euro, una multa per aver buttato magari una circa, una cosa, se vogliono fregarti ti fregano. Grazie. 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 Sir, hai un'altra parte? Hai Mohamed?